Musica 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 Posso parlare? Una bella serata comunque E' stata una serata interessante Ieri sera è stata veramente molto bella Situava veramente pazzesca Incredibile Ah ma lo sai che dobbiamo fare L'intervista Adesso dobbiamo fare il programma Ciao la facciamo al line Bah l'allrelentino Barline, Barline di brutto Subito, andiamo Andiamo al Barline Sera, ciao, ciao Buonasera e ben ritrovati a Part Me Up, il programma dell'applicazione per le vostre serate a Bologna Questa sera siamo gentilmente ospitati al Bar Lime, io sono Enrico, io sono Giorgio Piero Ciao a tutti E vi spiegheremo ancora che cos'è Part Me Up, ci sono delle novità e soprattutto vi racconteremo che cosa fare questo weekend a Bologna Non sapete che cazzo fare la sera? Allora scaricate Part Me Up, un'app più figa sulla Night Live La novità grande di questa settimana è il nuovo aggiornamento per Part Me Up In che cosa consiste? Consiste che adesso potete vedere tutti i partecipanti alle serate, singole serate Potete vedere tutti i partecipanti e soprattutto potrete votarli Quindi potete votare la ragazza più bella o ragazza più bella secondo dei gusti con 5 stelline E i più votati entreranno nella top 5 di ogni evento Quindi partecipate e votate, potete votare anche i vostri amici ma votate da far vincere loro, entrare loro nella top 5 Che insomma è una bella pubblicità e innanzitutto potrete già sapere e organizzarvi in anticipo su chi sarà presente o meno Quindi insomma è una bella cosa Esatto, vuol dire è una bella cosa sapere in anticipo chi ci sarà e chi non ci sarà Quindi passiamo alle serate in programma questo weekend Partendo da venerdì dove al Freak Out Club troviamo il doppio concerto di Garrett Klan e Carl Larsson per tutti gli amanti del rock Poco distante troviamolo a Locomotive la sua serata techno con Claudio PRC, Link Minded e molti altri Dove ci saranno 106 maschi e 51 femmine, quindi ragazze mi raccomando partecipate E chiudiamo con Al Cortile Caffè in pieno centro dove c'è un'altra serata rock con i Nigredo Pro Sabato sera invece troviamo, sempre grazie a Part Me Up, al Freak Out, serata speciale con Luther Blizzier Che vi dirizzerà con il suo stile punk, prog e impro Al Covo Club invece in zona San Donato, serata rock con i Pan del Diavolo e il Pannocchia E a seguire balli scatenati sulle note dei grandi classici del rock dove vi parteciperanno 50 ragazzi e 42 ragazze All'Estragon sempre in zona fiera, altra serata rock con i Nobriano Al Cubo invece tutta serata tutta da ballare con Cando DJ, Cordisco DJ e Luigi Giusti Con 235 ragazzi e 235 ragazze partecipanti, quindi parità assoluta E chiudiamo l'appuntamento del weekend con domenica dove se volete fare un aperitivo bello corposo e divertentissimo Potete andare al Crystal dietro la stazione che è il posto che farà per voi sicuramente per soddisfare il vostro palato E soprattutto la vostra voglia di stare fuori e divertirvi La sera invece al Freak Out ci sarà serata per gli amanti del rock pop psichedelico con It's the Blank Tapes e molti altri Ragazzi per chiudere la puntata di stasera ringraziamo il Bar Lime che ci ha ospitato così gentilmente Il mercoledì è serata Erasmus e il sabato con DJ Set Vi ricordiamo il nuovo aggiornamento che è possibile scaricarlo sempre dall'applicazione del Play Store Il nuovo aggiornamento consiste nel votare i partecipanti della serata E ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo venerdì, ciao Salute, buona serata, alla prossima Grazie per la visione